La partita Benevento-Bologna, in programma domenica 27 agosto per il secondo turno del campionato di Serie A, verrà anticipata a sabato, alle 18. Lo ha disposto la Lega Calcio, per evitare la concomitanza con un'altra manifestazione cittadina, nel giorno storico per la città campana, che farà il suo esordio casalingo in quella Serie A mai disputata in precedenza.